Padova si prepara a diventare la futura capitale del volontariato in Europa nel 2020. La candidatura sarà formalizzata entro il 29 giugno, termine ultimo previsto dal bando emanato dal Centro Europeo per il Volontariato che è sede a Bruxelles. Il concorso ha l'obiettivo di promuovere le attività delle associazioni del territorio. Il riconoscimento infatti dà modo ai comuni di chiedere sostegno al governo e cercare nuove fonti di finanziamento. Oggi credo che il fatto importante strategico è la candidatura della nostra città a capitale europea del volontariato. Da oggi tutto sarà diverso nel senso che anche il rapporto con il volontariato e la città dovrà modificarsi, dovrà diventare più intenso. Il volontariato non sarà più nella porta secondaria ma dovrà essere nella porta principale perché dal volontariato ci può essere uno sviluppo nuovo della nostra città. Una sfida che mira dal risalto al terzo settore. Intanto il Comune di Padova e il Centro Servizi Volontariato stanno organizzando Solidaria, una rassegna culturale che dal 24 al 30 settembre 2018 raccoglierà iniziative di ogni tipo, dalla musica al teatro, abbracciando l'intera cittadinanza. È una città che ha fatto nascere la prima banca etica, è una città dove c'era Monsignor Nervo che è stato il grande patron del volontariato italiano, del nuovo volontariato ma è anche stato il grande ideatore della carità italiana. Noi oggi siamo una delle città con un più alto tasso di solidarietà organizzata italiano. Per questo riteniamo di poter essere, di avere tutte le carte in regola per poter candidarsi e anche vincere. Alcune città che hanno ottenuto il titolo di capitale europea sono Barcellona, Lisbona, Londra e Sligo. L'annuncio del vincitore per il 2020 sarà dato a dicembre.